Una trama da film horror che non poteva finire in maniera peggiore è quella che si sta vivendo nel comune di Reggio Calabria dopo la presentazione della semigiunta da parte del sindaco Falcomatà. E noi siamo pronti a dare battaglia a questa nuova deriva, lo ha detto nel corso di un incontro con i giornalisti il coordinatore regionale per la Calabria e vice capogruppo alla Camera di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, in relazione al varo della nuova giunta comunale di Reggio annunciata dal sindaco Giuseppe Falcomatà che dopo il suo rientro alla guida del comune a seguito della soluzione nel processo in cui era imputato per abuso d'ufficio ha nominato sei assessore su nove in attesa delle determinazioni da parte del PD, partito di cui è espressione lo stesso primo cittadino. Cannizzaro ha annunciato che nella giornata si presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Falcomatà che è stata sottoscritta in presenza dei giornalisti. Siamo fortemente preoccupati, ha detto il deputato, e precisiamo sin da subito che non siamo assolutamente disponibili a fare da stampella all'attuale maggioranza. Speravamo che il ritorno di Falcomatà alla guida della città rappresentasse l'occasione per uno slancio dell'azione politico-amministrativa. Il risultato invece è che l'intera coalizione di centro-sinistra ha abbandonato il sindaco Falcomatà. L'intera impalcatura del centro-sinistra che lo sosteneva fino a qualche ora fa non c'è più. È evidente lo sfaldamento di questa maggioranza. Non so quello che decideranno nelle eventuali interpattiti che continua Cannizzaro, che si terranno da qui a qualche ora. A pagare tutto questo però sono i cittadini. Fossi stato Falcomatà avrei già rassegnato le dimissioni. Ed è molto difficile che tutto torni come prima. Se si andrà ad una ricomposizione sarà solo una finzione che si ripercuoterà inevitabilmente sulla città di Reggio. Alla conferenza stampa hanno partecipato i consiglieri di Forza Italia Federico Emilia Antonio Maiolino e Roberto Vizzari che si sono detti altrettanto critici e preoccupati per la situazione politica che si è determinata nel Comune dopo la nomina della nuova giunta.